Salve a tutti amici e benvenuti a questo video, io sono Salopimpos e oggi torniamo su Grampa Guardate che bellissima questa tendina, ce l'abbiamo anche qui e anche qui non si muove Come è su Grampa Aspetta, spostiamola Spostiamola con delicatezza e circospezione Ok, siamo su Grampa perché anche qui ragazzi è stata fatta la mod La mod non da Nulzerep stavolta ma da Rebel Mods Quindi anche su Grampa abbiamo una serie di cose fighissime Tra cui l'invisibilità, quella non può mancare ovunque Poi Kill Grampa, possiamo ammazzare Grampa, non so se effettivamente però per sempre Poi Kent Attack, quindi non possiamo essere attaccati Red Eyes, occhi rossi e Freeze Grampa Proviamo, allora intanto cominciamo con il Kent Attack Ok, così il maledettissimo messo proprio subitissimo Ciao Grampa No però non ti incacchiare troppo perché con mi fa insordire C'è messo proprio al limite perché lui era qui Ciao Grampa, che occhio bello che c'hai Non mi attacca ragazzi, mi insegue Mi insegue ma non mi attacca Però è troppo inquietante sta cosa Ciao Grampa, c'hai rotto le scatole Allora poi che abbiamo Red Eyes, vediamo un po' Occhi rossi, già che sei brutto Poi con i tuoi occhi rossi sembri un demone Spegniteli va, che sei più inquietante di Granny Che ho messo qua, Freeze Ok, Freeze Grampa Ho Kent Attack con il Freeze Grampa Quindi statene lì a guardare Ho fatto cadere un tuo quadro Tranquillo, poi te lo faccio riparare Statene lì a guardare la finestra Vedi se c'è la tua ragazza che ti viene a prendere Così esci con lei e mi completo il gioco Poi c'è l'invisibilità Quindi sfrizziamolo Sfrizz Eccomi Ciao Ciao Ok, invisibilità Invisibilità, io sono invisibilissimo Ciao Grampa Ciao Tu cammina Ah, cammina per i cacchi suoi Se ne frega bellamente della mia presenza Ottimo Vieni qua, ho uno scappato Testa di scimmia, vieni Ok E poi alla fine abbiamo Il Kill Grampa Ragazzi Però non so se effettivamente dura Poco o è per sempre Quindi Grampa, aspetta Frizzati Grampa, ti voglio vedere morire in faccia Voglio guardarti la morte in faccia Grampa, maledetto Aspetta, spostiamo la tendina Queste tendine le odio Perché non si spostano Ok Ok Grampa Stai per morire, Grampa E' Kill Grampa Mori Faccia di scimmia E' morto, ragazzi Abbiamo ucciso Grampa Mi sento quasi Mi sento quasi Una brutta persona Grampa Sei morto O stai per svegliarti Da un momento all'altro Chi lo sa Chi lo sa E intanto mi esploro la casa Vediamo se riusciamo a completare il gioco Così Intanto mi chiudo la tendina pure Chiuditi la tendina E' completare il gioco E' lei Chiuditi sta cacchio di tendina Non le sistemano mai E' ancora qui morto Completare il gioco no Ma Quanto meno usciamo dalla casa Se E' qua lagga Quindi ragazzi Se non siete riusciti a completare Grampa Questo è un ottimo modo Ovviamente vi lascio il link In descrizione Dell'applicazione Per installarla Funziona esattamente Come su Granny Nell'aggiornamento Tra l'altro Hanno aggiunto Questo engine Allora funziona come Granny Quindi disinstallate La versione attualmente installata Di Grampa Che avete sul cellulare Quindi scaricate questa versione E la installate Questa la torpiamo qui Perfetto Andiamo a recuperarci la motosega Il problema è che Non dovete inquadrare Grampa Quando è buggato Perché vi lagga tutto il mondo Quindi vi consiglio Di non Di non inquadrarlo Con la telecamera Qui non c'era nulla Se non ricordo male Ho già finito il gioco Ma tempo fa Quindi non ricordo bene No C'è la motosega qui Perfetto Prendiamo solo la motosega Tra l'altro C'è il garage Anche qui hanno aggiunto Adesso vediamo Ecco Guardate qui Quando ci avviciniamo a Grampa Con la telecamera Lagga troppo Quindi evitate di inquadrarlo Non lo guardate proprio Camminate all'indietro Come i gamberi Guardate qui come lagga Togliamo un po' di codici Può essere che Troppi Switch attivi Fanno laggare ancora di più Togliamo il freeze Togliamo il kent attack Perfetto Abbiamo tolto tutto Ma lagga lo stesso Lagga E si è pure bloccato Quindi Secondo me Il kill Grampa Si è sbloccato Ma molto laggoso Camminiamo all'indietro E andiamo su Grampa Non ti guardo Tranquillo Dai tizio Lo sappiamo già Dai Prendi la silver key Dai Prendiamo la silver Apriamo qui Ok Posiamo la silver Prendiamo la cinzu Forza tizio Taglia tutto Ok Grampa ancora non si è svegliato Quindi tecnicamente L'abbiamo ucciso per sempre E infatti lagga ancora Niente ragazzi Con il kill Grampa Praticamente Che cosa succedeva Succedeva che laggava troppo Fino a bloccarsi il gioco Si ma non fare Tutto sto casino Però Grampa Perché non è che ci sei solo tu Nella vita Dunque L'ho ricominciato Giocando Semplicemente Con l'invisibilità Perché attualmente Il kill Grampa Non funziona tanto bene E fa laggare il gioco In una maniera incredibile A tal punto Da bloccarsi Quindi Eh levati queste mani Tizio Levati Levatele queste mani Quindi provatelo Vedete se anche a voi Fa questo difetto Casomai Se vi funziona tranquillamente Utilizzatelo tranquillamente A me Si bloccava tutto Leva sta chiave Tizio Prendiamo la motosega Tagliamo i laser Adesso hanno aggiornato E hanno inserito il garage E hanno spostato la chiave rossa Adesso dobbiamo Trovare la chiave rossa Vediamo se da queste parti Buttiamo la motosega Tizio Butta Non ti serve più Allora Chiave rossa sei qui? Chiave rossa Dove sei? Andiamo a vedere Che c'è giù Nel garage Perché Ah ecco Effettivamente C'era qualcosa di nuovo Giù per le scale Qua c'era qualcosa di nuovo L'engine part Vediamo se va lì so Per far partire l'auto Giusto? La cinghia del motore Vediamo che cosa Ci possiamo fare Qua qualcuno è passato E c'è rimasto secco Che facciamo qui? Chiave Che è successo? Chiave Che cosa sarebbe Questa affare qui? Un mini zombie Fighissimo Eh Levati la mano Tizio ho capito Ormai È lì Eh ma Già in parte Che cosa è che l'auto È tutta sfasciata Qui Ci facciamo Qua non ci possiamo fare nulla Ok L'ho inserita qui Perfetto Dovremmo far partire Quell'auto sfasciata Con questo motore qui? No Tizio Speraci Veramente Speraci Ok Missing parts Dunque La cinghia abbiamo trovata Poi Il disco del freno È un tubo Un tubo Vabbè Andiamo Vediamo un po' che succede Non c'è la chiave rossa Ma c'è un engine part Ma chi l'aveva vista? È buissimo sto coso Non l'avevo visto Comunque Allora esploriamo meglio qua Qua non c'è più nulla E qua Non c'è più nulla Ok Andiamo a mettere questo Questo disco Inseriamo il disco Vai di disco Ok Manca il tubo Il tubo Dove Vado a trovarlo io Questo tubo Guardate qui Guardate qui Cioè Ma mimetizzata Con il barile La chiave rossa Ragazzi Se vi siete persi La chiave rossa E qui Sempre nel solito punto Comunque Accanto all'ascensor Anziché Nella credenza È sopra il barile Il barile rosso Mimetizzata a puntino E allora Andiamo ad aprire Subito Giusto Ancora il tubo Non l'abbiamo trovato Però Allora Andiamo ad aprire Vediamo Se c'è qualcosa qui Apriamo qua Apriamo tizio Apriamo Buttiamo la chiave rossa Ok Ciao tizio Morto a terra Sì sì Ciao 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 Non te la prenderà male Ma io me ne vado Di qua che abbiamo Di qua non c'è niente Saliamo le schede Il tizio che corre Sempre qui Non l'hanno tolto E ragazzi Bravo bravo Non andate da quella parte Perché cadete in trappola E morite Io vi sto avvisando Andate da questa parte A destra Così evitate di cadere in trappola Qua che abbiamo Una siringa Non mi serve Qua che abbiamo Oh Finalmente il tubo Finalmente il tubo qua L'abbiamo trovato Perfetto Vediamo che c'è qui anche Niente Prendiamo il tubo E qui Dovrebbe esserci pure l'ascia Lì sopra Quindi andiamo a inserire questo Intanto Ecco qui Ecco il tubicino Motore Adesso sei pronta a partire Forza che ce ne andiamo da qui Metti qua Fatto Avviamo tutto Abbiamo preso direttamente il motore Grande Ok Ce ne possiamo andare Ho sfasciato qualcosa Mi sono auto investito Non fammi capire Mi sono auto investito Ragazzi Credo di aver scoperto un bug Credo che la macchina Avrebbe dovuto investire i cartoni Giusto Perché lì effettivamente c'è qualcosa Solo che io mi sono ritrovato in mezzo Investito dall'auto Vai tizio Rompiamoli a mano queste cose Perché L'auto ha toppato di bella Vedi se riesci tu a romperle Attestate Non lo so Ok Ce l'ho fatto Via tizio Rompi tutto No vabbè Ok lascia Allora la chiave dorata era su Ah ma tra l'altro Dobbiamo ancora trovare Il piede di porco Rompi qua tizio Intanto Rompiamo qua Rompiamo qua E rompiamo qua Buttiamola Dobbiamo trovare il piede di porco E su allora Tutto su Sì perché la chiave dorata È effettivamente giù Scendendo dall'ascensore Quindi stiamo procedendo benissimo Andiamo su a recuperare Il piede di porco Che cacchio vuoi Saliamo Saliamo Ciao tizio Impiccata Tranquilla Tranquillo Prendo solo il piede di porco Non ti disturbo Tranquillo Rimani qui a far l'impiccata Che Lo stai facendo benissimo Distruggiamo qui Ok Distruggi qua Distruggi qua Va tizio Distruggi Quando io premo Falla l'azione Non è che te ne stai Lì e impalato Non fa niente Falla l'azione Prendiamo la chiave verde Che io Ho bellamente scordato E riscendiamo lì sotto Forza tizio Tizio Riscendita Su questo cacchio Di ascensore Apriamo qui E prendiamo la Chiave dorata Questa la buttiamo Questa la prendiamo E finalmente Possiamo uscire Nel cortile Andiamo Andiamo Mettiamo la chiave qui E finalmente ce ne andiamo Alleluia 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 Vai Andiamo Tizio Va Veloce Esci Va bene ragazzi Va bene Il cortile Se non sapete Come completarlo Vi invito a guardare Lo speciale Dei 30.000 iscritti Dove mi appendevo Tutte le mollette In faccia Ogni volta che perdevo Quindi vi ricordo Che il link Di questa applicazione Modificata L'ho trovata In descrizione Disinstallate Grampa E installate Il file Che trovate In descrizione Al sotto Quindi se vi è piaciuto Ci lasciate un bel like Vi ricordo Che potete Seguimmi anche Sulla pagina Facebook Twitter Instagram Tutti i dati Social Di cui trovate Link In descrizione Iscrivetevi Al canale E per oggi è tutto Al prossimo video Se oggi siamo Su Granny 2D Dopo aver fatto Slendrina 2D Facciamo Granny 2D Qui però Impersoneremo Granny In persona Quindi saremo A casa di Granny Che sei brutta Granny Sei brutta pure qua